Cosa sta cambiando nel fundraising in Italia? Come sta cambiando e perché? Partiamo anzitutto dai perché con l'ospite di questa nuova puntata di Milano Non Profit realizzata sempre in collaborazione con Non Profit Factory perché è proprio dai perché che partono chi lavora nel Non Profit tutti i giorni e chi agisce il cambiamento a favore del bene comune. Non Profit Factory e qui con Nicola Bedoni, un volto noto per chi opera nel Non Profit Senior Fundraiser quindi vuol dire esperto, insomma professionista di lunga data e ex presidente di Assif, l'associazione italiana Fundraiser. Quindi grazie Nicola di essere qui con noi. Grazie a voi. Oggi sono molti e anche interessanti e particolari perché non sempre vengono affrontati i temi con cui ci provocherai positivamente oggi e che desideriamo condividere. Anzitutto, come abbiamo anticipato, quello dei perché, cioè le motivazioni che spingono i fundraiser, quindi che spingono le persone che lavorano nel Non Profit e in particolare voi, insomma, che noi chiamiamo i professionisti del dono. Quindi ti lascio subito la parola perché recentemente, in occasione di Fundraising Tuesday che si è svolto a Roma in ottobre, in ottobre del 2023, hai fatto un intervento davvero molto interessante, anzitutto motivazionale, insomma, ha dato un po' la carica a me sicuramente, che lo dia ad ascoltarti, ma anche a tanti altri, di senso, di profondo senso e significato e che riprendeva il titolo dell'edizione di Fundraising Tuesday che è stato appunto il perché del fundraising. Quindi non mi dilungo e ti lascio subito la parola proprio per dare anche a noi una motivazione per continuare a fare il nostro lavoro. Grazie Elena. Intanto, sì, guarda, quell'edizione di Fundraising Tuesday è stata meravigliosa perché il tema scelto credo fosse fondamentale e contemporaneo, cioè perché? Perché siamo abituati noi fundraiser a fare mille corsi e concentrarsi su quelle che vengono definite le technicalities e perdiamo un po' di vista, concentrando la vista sul singolo, perdiamo un po' di vista il generale. Quindi ritornare a una dimensione del perché, cioè fare qualche passo indietro e capire da dove si era partiti per fare questo tipo di professione o che cosa caratterizza il mondo del terzo settore, è stata una scelta, secondo me, vincente. E tutti gli interventi si sono naturalmente declinati sul perché e sono stati interessantissimi. Si è tornato proprio alle origini. Il mio intervento in realtà ha giocato sulle parole, cioè mi sono divertito a riprendere la dimensione lessicale delle parole utilizzandole come se fossero dei fari per poi costruirci intorno dei significati. Quello da cui siamo partiti, cioè la premessa è che è evidente a tutti che siamo all'interno della trasformazione culturale diffusa, estesa, che sta completamente ridisegnando le regole a cui eravamo abituati, quindi le regole del nostro agire presente, ma anche sta riscrivendo pian pianino quelle che saranno poi le trame del futuro. Per cui un fundraiser che deve cercare di prevedere quali sono le modalità con cui entrare in contatto e sviluppare le relazioni, deve anche cercare di avere un minimo di previsione su quello che può accadere sul futuro. La figura del fundraiser ormai sono anni che, se lo definiamo quale promotore di relazioni e generatore di cambiamento, sono anni che sta cambiando, perché il cambiamento è in atto e quindi diventa sempre più liquida e deve naturalmente essere pronto a cercare di capire e cogliere quelli che sono i mutati comportamenti dei donatori, in primis, e l'innumerevole numero di strumenti di donazione che si stanno affacciando nella cassetta degli attrezzi del fundraiser. Noi vediamo ormai da tempo come strumenti che prima consideravamo appartenenti a due sponde diverse dello stesso fiume, in realtà si stanno sempre di più, anche se lentamente, ibridando. Vediamo che la frontiera tra profit e no profit sta pian piano scomparendo o sta diventando sempre più tratteggiata. E su questo mi piacerebbe fare... Sì, assolutamente, è uno dei temi che a noi interessa in modo particolare questo, anche perché è delicato. Altro tema che mi interesserebbe approfondire è come vediamo che il dono spesso viene confuso con il sostegno e quindi il margine tra ciò che è sostegno e ciò che è dono non è chiaro a tutti. E naturalmente ben venga che il dono possa ibridarsi, ben venga che il sostegno possa acquisire una dimensione etica, ma capire i due termini a quali i mondi fanno riferimento è fondamentale. Poi vediamo ancora che la reciprocità sconfina sempre di più nel sinallagma, quindi quella che era la reciprocità gratuita, quindi la famosa definizione dell'erogazione liberale, la liberalità, quindi senza volere nulla in cambio, in realtà viene ibridata dal sinallagma, che è il do-des. Quindi è vero, magari si parte con un animus donandi e quindi con una destinazione totalmente gratuita, ma poi si viene ripagati non solo con lettere di ringraziamento, ma con regali, con certificazioni, anche con oggetti. E quindi anche lì ciò che prima era reciprocità totale, che si basava su una relazione reciprocante, in realtà sta diventando, non dico commerciale naturalmente, ma si basa su matrici che sono completamente opposte. Altra è la liberalità che può diventare scambio. Quelle che erano liberalità invece ultimamente diventano sempre più spesso scambio di qualcosa, scambio di oggetti, ma anche scambio di relazioni, quindi non con una valenza negativa. E idem la fidelizzazione è sempre di più le sembianze dell'engagement. Quindi c'è proprio questa ibridazione continua tra quello che noi chiamavamo il mondo del no profit, per distinguere dal mondo del profit, in realtà sono sempre più ibridi, sono sempre più interconnessi. Molto interessante davvero. Quindi direi di cominciare, insomma, in questo viaggio lungo la disintermediazione, un po' in questo mondo che possiamo dire che quindi anche il no profit è un po' toccato dalla fluidità, da un flusso non sempre governabile, insomma, che talvolta non è che va sempre bene mischiare un po' tutto. Quindi io partirei da profit e non profit, che è uno dei grandi temi, che poi in realtà un po' si può collegare anche al resto. Che ne dici? Assolutamente sì. Sì, cioè noi vediamo come ci sia un'ibridazione sempre più spinta tra il mondo del profit e il mondo del no profit. Sono nate nella riforma del terzo settore, c'è la qualifica di imprese sociale, sono nate le B Corp, ci sono le imprese di scopo. Quindi tutto ciò è come se partissimo, c'è una distinzione molto netta, che è quella della cultura del dono. Allora, la cultura del dono, così come definita, se la volessimo interpretare in maniera estremista, appartiene esclusivamente al mondo del no profit e quindi tutto ciò che riguarda il fundraising basato sulla cultura del dono appartiene al mondo del no profit e ci ha ricordato anche il legislatore nella riforma del terzo settore. E tutto il resto, invece, ciò che è solidarietà, oppure ancora meglio, condivisione di intenti per un bene comune, allora gli sti che entra e si spalancano le porte a tutto il mondo del profit. E lo vediamo soprattutto nelle giovani generazioni, quelle più affini all'utilizzo di strumenti digitali, perché sono molto più concentrate, cioè il loro interesse riguarda spesso le tematiche. E da qui nasce il fenomeno di cui parleremo dopo della disintermediazione, cioè l'interesse con cui vengono, l'innesco, l'aggancio, l'esca con cui vengono attirati a fare una donazione o comunque a dare un sostegno a qualcosa, è la tematica. Quindi l'ambiente, le guerre, piuttosto l'abbiamo visto con l'Ucraina, quindi la spinta principale nei confronti della tematica. Questo vuol dire che c'è un bypass totale di quelle che sono le organizzazioni, che stanno nel mezzo, che dovrebbero essere i mediatori, dovrebbero essere i garanti del buono emotivo di contribuzione economica o di disponibilità volontaristica. E questo lo vediamo sempre più spesso. E in effetti per un giovane delle nuove generazioni che è entusiasta del partecipare al miglioramento dell'ambiente o combattere quello che è il climate change, di dare, chiamiamolo sostegno, di dare un sostegno a un'organizzazione, a uno profit come può essere il WPF per la salvaguarda di una specie o Greenpeace o tante altre e darlo invece magari a una start-up profit come Tridom o a qualunque altra società profit che pianta degli alberi, cambia poco, cioè gli interessa poco chi è il mediatore, tant'è che lo bypassa, quindi dà il suo contributo per il miglioramento dell'ambiente. Che dietro ci sia un'organizzazione a uno profit o una profit cambia poco. Chiaro, ma in questo contesto quindi i fundraiser o le ONP cosa dovrebbero fare secondo te? Allora, le ONP dovrebbero riprendere il loro ruolo di garanti, perché naturalmente tra una società profit che si risolve il problema, però la modalità con cui lo risolve, quindi si entra nel merito, a volte è completamente opposta al problema che viene risolto. Le organizzazioni no profit invece che sono dotate di un quale cetico, che sono sul territorio, che conoscono perfettamente la tematica e quindi dovrebbero sapere, dal mio punto di vista sanno perfettamente qual è il modo più efficace ed efficiente di risolverlo quel problema e quindi redistribuiscono le risorse o gli slanci emotivi di quelli che sono i donatori per efficientarli nella maniera migliore possibile. E non hanno naturalmente un obiettivo economico, tutto il loro efficientamento si basa e si sviluppa sulla risoluzione del problema. Giusto, chiaramente, perfetto. Infatti così si dà anche un po' una bussola perché secondo me da quello che stai dicendo e che in modo molto chiaro c'è quasi il rischio che poi ci sia anche un disorientamento in chi invece lavora tutti i giorni per la cultura del dono. E poi appunto dicevi che questo passaggio dall'ibridazione porta alla disintermediazione. In che senso e se vuoi anche portare degli esempi? Ma la disintermediazione l'abbiamo vista per esempio nella guerra in Ucraina in cui c'era stato uno slancio emotivo talmente forte che chi aveva contatti diretti là ha preferito sostenere direttamente il soggetto in difficoltà piuttosto che appoggiarsi a un'organizzazione no profit sul territorio che potesse raccogliere quelle che erano le contribuzioni e redistribuirle secondo senso. Abbiamo visto tante persone che sono addirittura partite con i loro furgoni per portare beni di prima necessità, beni alimentari, quindi si sono messi in gioco in prima persona bypassando quella che è la mediazione dell'organizzazione no profit. Quindi è stato un contatto diretto tra il donante e il donatario, cioè chi aveva lo slancio di donazione e chi poteva ricevere quella donazione. Questa è una disintermediazione che succede già in tutti i settori del mondo profit, ormai è successa, sta arrivando anche nel mondo del no profit, è pericolosa, non è pericolosa, questo probabilmente lo vedremo, dal mio punto di vista bypassare le organizzazioni no profit che dovrebbero essere le garanti di una buona distribuzione delle risorse, sì in molti casi sì, ma per esempio negli Stati Uniti o nei paesi anglosassoni nascono parecchi sì, c'è un sito in particolare che è Giving Directly che dà la possibilità al donante di donare direttamente al beneficiario, quindi è come se fosse una piattaforma di intermediazione soft senza nessun tipo di… però è sempre un canale, da un punto di vista del donatore o del semplice beneficiario, capisco il discorso appunto del garante, però magari se puoi anche spiegarci meglio che cosa questa disintermediazione può portare di tra virgolette negativo perché un donatore dice io dono, arriva direttamente al beneficiario e quindi che problema c'è? Questo è appunto per far capire a chi ci ascolta. Beh, di negativo c'è che in molte situazioni il beneficiario utilizza magari male il contributo che gli è arrivato. Perché non c'è la gara, quindi è impossibile poi avere un reale riscontro? Beh certo, non hai quello… c'è tutti i ragionamenti sull'impatto, sulla rendicontazione, tutta quella parte lì scompare e scompare addirittura in un momento in cui il donatore, essendoci questa ibridazione col mondo del profit, spesso indossa il cappello del consumatore che è molto più esigente in termini di riscontro e di rendicontazione rispetto al contributo che ha dato e diventa una sorta, ci è piaciuto a fundraising to say definirlo don attore, nel senso che vuole come un ruolo da protagonista sempre più forte e quindi vuole copartecipare, vuole essere informato e se la donazione viene fatta direttamente a un soggetto, il soggetto difficilmente ha anche gli strumenti per poter fare una rendicontazione efficace a chi gli ha dato un contributo. Chiaro, molto interessante e l'altro aspetto appunto che dicevi, fra gli altri aspetti, era quello della liberalità che può diventare scambio. In che senso? Un po' anche legato a quello che stavi dicendo adesso, però vorrei un po' approfondire. Guarda, su quello mi ha colpito molto, ultimamente, viene ultimamente, come ne sono accorto ultimamente, però magari ho utilizzato già da parecchio tempo, c'è sempre la confusione o il tentativo di distinguere tra quello che è marketing e quello che è fundraising. Altro tema che a noi sta molto a cuore, quindi grazie di citarlo. Allora, io sto vedendo, quindi, nell'attualità, nella contemporaneità di oggi, che stanno esplodendo, visto che c'è una necessità fortissima di fare comunità, di sentirsi le scale dei valori, sia con la pandemia, soprattutto con la pandemia, o meglio, con la specificità della pandemia che è stato il lockdown, che ha dato alle persone il tempo di affinare ragionamenti che durante la quotidianità ordinaria si fa fatica a fare perché non c'è mai il tempo. E quindi, nel post pandemia, abbiamo visto che, oltre a tutti, naturalmente, i licenziamenti per la costrizione dell'economia e dello scambio di beni che c'è stata, c'è stata una quantità enorme di dimissioni, cioè di persone che hanno completamente cambiato le loro scale di valori. Cioè, si sono accorti che le loro scale di valori non erano incentrate così come avrebbero voluto e quindi hanno, si sono costruiti un'altra vita, un'altra vita probabilmente più semplice, più etica, più comunitaria, quindi questa dimensione necessità della comunità, del fare qualcosa di cui ci si può sentire fieri, a prescindere dal proprio lavoro, che naturalmente anche quello può dare una dimensione di fierezza, è stata fortissima. E io vedo che questo slancio è stato utilizzato in maniera propria, quindi non c'è niente di illegale, da, per esempio, i sistemi di network marketing. Cioè, mentre prima la dimensione era prettamente economica, che è rimasta naturalmente, cioè puoi aderire e puoi diventare ricco in breve tempo con una dimensione di network marketing esponenziale. Adesso hanno affiancato a questa cosa interessante che fa da innesco per incentivare la curiosità di chi poi vuole approfondire e partecipare, hanno affiancato la dimensione solidale, una dimensione comunitaria del insieme salviamo il mondo perché, e poi viene declinato in mille rivoli, perché il nostro prodotto non fa altro che fare del bene alle persone, quindi noi miglioreremo il mondo. E quindi qui, proprio si traccia quella che è il confine che dovrebbe essere, ma che non c'è più, tra l'utilizzo di una dimensione prettamente caratterizzante, il mondo no profit, per uno scopo che se poi vai a leggere il business plan, non ha nulla a che vedere con la solidarietà, la condivisione, cioè è uno scopo prettamente commerciale, come deve essere, perché naturalmente è attribuito a una società. altra dimensione è quella che stanno esplodendo delle tavole dell'abbondanza, quindi di questi network che chiedono un contributo di entrata, per poi fare una dimensione scalare, in cui il contributo con cui sei entrato si rigenera, o al meglio aumenta con l'entrata di altri soggetti all'interno di questa comunità. Ma chi ci guadagna in queste tavole? Allora, ce n'è mille, ci sono alcune tavole che guadagna il mediatore, quindi la piattaforma, piuttosto che chi gestisce tutto il sistema, ma ce n'è anche che prevedono lo scambio diretto, quindi che non c'è un grande marionettaio che tira i fili e che quindi guadagna percentuale sull'entrata, semplicemente sono scambi diretti, quindi io do un contributo direttamente nel conto corrente di un altro soggetto. E questo contributo, in alcuni casi, io ne ho visti alcuni online, non vi cito naturalmente il sistema, perché non voglio entrare nella dimensione di dare un giudizio sul sistema, ma online ce ne sono e spesso questo contributo, che è dato da persona a persona, quindi da conto corrente a conto corrente, tra l'altro con lo scopo anche lì, si chiamano tavole dell'abbondanza e utilizzano termini come l'economia circolare, come siamo una comunità solidale in cui ci si aiuta a vicenda per far crescere tutti. In realtà il contributo che viene dato si autogenera, cioè aumenta di valore utilizzando i contributi degli altri soggetti che entrano, e così in maniera scalare. E spesso viene utilizzato, almeno a me è capitato di vederlo in pagine, che sono online, viene utilizzato al posto del termine contributo, il termine donazione. Ebbè, insomma è un'appropriazione in debita, un'appropriazione semantica in debita. Sì, non c'è un copyright, se dietro non c'è assolutamente, se è tutto legale, è come se fosse un refuso, però naturalmente il mondo del terzo settore, quando vengono utilizzati impropriamente dei termini, come quello di donazione, per definire quello che in realtà è uno scambio, dovrebbe intervenire o quanto meno segnalarli. Quindi, ridiciamolo un attimo ancora, in questo contesto che tu stai ben delineando, e che hai definito di disintermediazione, in cui la semantica del dono viene, a suo modo ridefinita, cosa il mondo del terzo settore può fare a tutti i livelli? E che cosa magari stai anche facendo tu con la tua attività, anche di divulgazione, di motivazione e di formazione? Allora, intanto secondo me, come abbiamo detto dall'inizio, dovrebbe ritornare al perché. Adesso senza tornare nella dimensione del documento buona causa, però fermarsi un attimo, perché il mondo sta cambiando a una velocità in cui un momento, come è successo per il lockdown, per rivedere le proprie priorità e cercare di capire se si è ancora nella direzione giusta, visto che magari si crede di essere nella direzione giusta, ma il mondo intorno a noi è cambiato, un po' come le scale di Harry Potter, quindi ti trovi che credevi di essere su una scala che stava salendo al secondo piano dove dovevi arrivare, e quella scala è stata spostata e magari va in un dirupo o arriva diretta a me, bypassa al secondo piano, arriva al terzo piano o va in cantina. Quindi un momento di riflessione che è stato quello che c'è stato a Fandresi in Tusei. Certo. Mi sono divertito a giocare con il termine perché, e tra l'altro partendo proprio da lì, ho trovato questa curiosità, che di sicuro un linguista saprà spiegarci, ma io no, per me è stata un'evidenza curiosa, che nella dimensione di domanda e risposta, perché fai questo, lo faccio perché, quasi tutte le lingue utilizzano due termini diversi. Pensate all'inglese, why, because, pensate al francese, pourquoi, parce que, pensate al tedesco, varum, veil, o anche lo stesso spagnolo, porche, porche. Invece l'italiano è, almeno da quello che io ho visto, in ambito europeo, è una delle poche lingue che utilizza la stessa parola. Cioè, perché in domanda e perché in risposta sono utilizzate dalla stessa parola. E ho usato questa curiosità per far capire che a volte, in questo caso utilizzando lo stesso termine, la risposta influenza la domanda e viceversa. Quindi, farsi la domanda giusta, a volte serve per avere la risposta giusta. Oppure, dare una risposta giusta può essere funzionale per farsi la domanda giusta. O, ancora di più, a volte la risposta, se viene declinata in maniera corretta, influenza direttamente la domanda. Cioè, capisci che la domanda che ti è rifatta era troppo generalista. Oppure, non aveva tenuto in considerazione alcune cose, lo scopri solo nella risposta. Quindi, questa influenza continua ci deve essere ed è il processo che dovrebbero fare tutte le organizzazioni, soprattutto in un momento di cambiamento così repentino, sia dei valori che degli atteggiamenti dei donatori, di questo continuo fenomeno di ibridazione che c'è tra il mondo profit e il mondo non profit, che non c'è un giudizio, quindi non è che sia sbagliato o giusto. È semplicemente che deve essere attenzionato soprattutto da chi gestisce relazioni come i fundraiser. Quello deve essere fatto. Guarda, noi di Milano Non Profit, mi sento di dire che sottoscriviamo quanto hai detto finora, e anzi, lo accogliamo anche come un consiglio per continuare a fare il nostro lavoro. Tu sei stato presidente ASSIF, l'associazione italiana fundraiser, e quindi volevo chiudere un po' questo incontro per chiederti perché uno che fa il tuo lavoro dovrebbe quantomeno andare a vedere che cosa fa ASSIF e come può lui per primo dare un contributo a questa associazione. Insomma, a cosa serve? Anzitutto forse proprio a ripartire da questi perché. Beh, ASSIF io credo sia fondamentale perché è l'associazione di riferimento dei fundraiser e quindi uno da solo fa fatica naturalmente a fare tutte le ricerche di cui stiamo parlando e tenere accesi dei fari o dei focus su tutto quello che sta succedendo intorno a lui. ASSIF è come se fosse un aggregatore e ha la capacità di parlare a nome dei fundraiser, quindi in quanto associazione e in quanto associazione di riferimento dei fundraiser può per esempio influenzare quelle che sono le istituzioni, può sedersi a un tavolo e dare le proprie motivazioni e soprattutto continuare ad informare i fundraiser su quelli che sono i cambiamenti, dare una sorta di servizio continuo di aggiornamento a quella che è la professione del fundraiser. Grazie mille Nicola, grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti.